ho comprato dei quaderni per la scuola abbiamo adottato dei gatti randagi guarda le nuvole nel cielo ho assaggiato dei dolci alla pasticceria gli studenti hanno superato l'esame abbiamo visto dei film interessanti gli amici ci hanno invitato a cena ho bisogno di dei buoni consigli i fiori nel giardino sono molto belli abbiamo incontrato degli artisti famosi guardate gli uccelli nel cielo ho trovato dei vecchi libri nella soffitta dei ragazzini giocano nel parco gli insegnanti assegnano i compiti grazie a tutti 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 grazie a tutti